Da Avellino in fuga verso il paese di origine con la figlia in tenera età, una donna di origini straniere, è stata individuata dai carabinieri di Arezzo. Secondo quanto raccolto dai militari aretini, la donna stava scappando da un passato di violenza. Era stato il marito rientrato a casa senza trovare la moglie ad allertare il 112, spiegando che la moglie stava tentando di raggiungere il loro paese di origine, portando con sé la figlia di pochi anni. Subito sono scattate le ricerche, è stata inoltrata una richiesta di localizzazione satellitare che, grazie all'opera di coordinamento con le centrali operative dell'arma, ha permesso di intercettare il veicolo in provincia di Arezzo. I carabinieri hanno quindi individuato e fermato il veicolo con a bordo la donna e la bambina che sono state portate in caserma. Qui la donna avrebbe raccontato il motivo della sua fuga ai militari e avrebbe denunciato il marito per maltrattamenti. Lei stessa invece sarebbe stata denunciata dal coniuge per sottrazione di minore. Sia lei che la figlioletta sono state affidate ai servizi sociali.